Saluti a tutti ragazzi e benvenuti nel fact time speciale 3000 iscritti che sono diventati ormai 3550 ma è comunque dei 3000 iscritti state tranquilli comunque prima di iniziare ragazzi volevo dirvi che avevo intenzione di portare una serie più o meno fisse dei fact time più o meno uno ogni mese quindi scrivetemi qua sotto nei commenti se l'idea vi piace e niente direi di iniziare subito ho selezionato solo alcune delle vostre domande perché me ne sono arrivate tante ma tante tante e quindi ne farò più o meno 10 barra 15 dipende adesso controllerò anche la lunghezza delle mie risposte e niente direi di iniziare subitissimo con la prima la prima domanda ce la fa Almex che ci chiede qual è il nostro videogioco preferito della Playstation, dell'Xbox, della Wii o della Wii U, del PC e del 3DS allora ti premetto che io non gioco molto a videogiochi però comunque per la Playstation e per l'Xbox vado sul mainstreamissimo FIFA perché è l'unico più o meno che ho giocato ed è l'unico che tuttora gioco perché dovete sapere che io gioco solo Pokémon e FIFA questi sono i miei due giochi poi per Wii e Wii U per Wii e Wii U c'è una bella lista perché ci sarebbe Mario Kart Wii Sport Pokémon Battle Revolution Dragon Ball Budokai Tenkaichi che sono tutti giochi bellissimi che ho provato però se te ne dovessi scegliere uno direi quello che non passa mai di moda ossia Mario Kart Mario Kart è proprio il top nel senso che qualsiasi periodo ci giochi non ti stanca mai mentre invece gli altri col passare del tempo ecco se dovessi scegliere in questo momento un gioco della Wii U a cui giocare Mario Kart sicuramente poi invece per il PC ho giocato praticamente solo giochi di strategia quindi ti direi Imperium Online tutta la saga di Imperium intanto c'è Julkan che fa il bordello con la pallina e per 3DS Pokémon Rubino Omega che è anche l'unico che ho giocato più o meno insieme a X e Y quindi praticamente mi dici di scegliere tra Pokémon X e Pokémon X Rubino Omega ti dico Rubino Omega perché X eh visto che abbiamo parlato di FIFA la prossima domanda sarà quella di Andrea Drago che ci chiede perché fai solo Pokémon e non altro per esempio FIFA hai citato proprio il gioco giusto perché effettivamente nessuno di voi lo sa però il mio canale aveva portato una serie di FIFA una carriera allenatore registrata vabbè con la videocamera davanti al televisore però effettivamente FIFA sarebbe l'unico videogioco oltre a Pokémon che porterei perché di fatto è l'unico che gioco nel senso che e nel senso che è un cazzo nel senso che è l'unico è l'unico che gioco e che quindi potrei portare sul canale perché io oltre a Pokémon non vado ma non per motivi chissà quali perché mi piace quello gioco a quello poco tempo quindi mi concentro su una cosa quindi no non credo di portare altri giochi oltre a Pokémon per il semplice fatto che non gioco ad altri giochi ecco domanda molto secca invece questa qua di Sissiroc Marra Marrazzo ok ce l'ho fatta perdonami che ci chiede se preferiamo Kingler o Oundum e io ti rispondo Oundum tutta la vita perché Kingler è un cazzo di granchio schifoso e io ho paura dei granchi dei ricci di mare e delle meduse quindi gioca abito tutto Yveltal00 invece ci chiede hai mai pensato di cambiare il tuo nickname quali sono i tuoi manga e o anime preferiti allora sul nickname ci ho pensato dal primo giorno in cui ho messo il nome perché effettivamente voi dite vabbè Creepy Stories è un nome abbastanza da merda insomma ecco ed effettivamente sono d'accordo con voi però dopo un po' che la gente cominciava a chiamarmi Creepy 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 mi sentivo un po' strano a cambiare il nome ormai me l'ho fatto la mia identità so che è un nome che non c'entra un cazzo con i Pokémon però l'ho fatto cioè questo nome qua l'ho dato principalmente perché il mio canale era nato inizialmente come semplici Creepypasta portavo solo Creepypasta l'idea era quella poi ovviamente sono andato a K gameplay e non ho più cambiato il nome però sì ci ho pensato non sai quante volte di cambiare lo sto maledetto nome di levare anche semplicemente lo Stories e di lasciare solo Creepy però alla fine sono qua a farlo speciale 3500 iscritti che mi chiamo ancora Creepy Stories ok che cosa triste per quanto riguarda invece i manga e gli anime ti dico subito che i manga non li leggo nel senso che non mi hanno mai interessato mentre invece di anime ne ho visti un po' a parte i soliti mainstream quali Dragon Ball e One Piece che non ho neanche finito di vedere nel senso che non sono più andato avanti non so neanche se si è già finito One Piece non ne ho assolutamente idea però il mio anime preferito è Death Note mi è venuta la voce da Travione passiamo alla domanda di Matteo Varrone che è molto interessante e molto particolare soprattutto mi è piaciuto molto se potessi costruire una palestra in che regione la costruiresti e di che tipo sarebbe tipo ti rispondo secco veleno il mio preferito assolutamente come si sarà anche capito dal fatto che ho Koga come avatar mentre invece la palestra la costruirei a Kalos perché tanto i capopalestra fanno tutti cagare quindi sarei automaticamente il migliore in assoluto il più bello il più il più il più bello basta la prossima domanda ce la fa ReallyFox che ci chiede qual è il Pokémon che odi di più e perché Miltank credo che non ci sia un motivo valido per spiegarlo anzi c'è passiamo alla domanda di Alessia Fenty che ci chiede Pokémon preferito di ogni generazione mi saluti ti seguo dai 3000 iscritti continuo così sei un grande allora innanzitutto grazie mille per i complimenti anche per la domanda sì ti saluto ciao Alessia allora Pokémon preferito di ogni generazione mi chiedi uno uno sforzo mnemonico abbastanza duro prima generazione Nineteist che è anche il mio Pokémon preferito in assoluto di seconda generazione ti direi Lugia che è il leggendario del gioco che io ho amato anche se all'inizio preferivo oh oh però poi la Galugia tanta roba poi di terza generazione ti direi Manetrick però ci sono altri Pokémon molto interessanti io apprezzo molto Maitina Binet ha una bellissima storia Agron è stupendo quarta generazione ragazzi per motivi affettivi dico Empoleon perché è stato il mio primissimo Pokémon effettivo perché in realtà il mio primo gioco è stato Verde Foglia però insomma lo giocavo un po' a scazzo invece il primo gioco serio è stato Diamante e lì cazzo c'è Empoleon a Manetta e quindi mi sono legato emotivamente a questo Pokémon quinta generazione vado a mani basse vi dico Scoliped che è sicuramente il Pokémon un Kaleottero migliore mentre invece la stessa generazione sono tutti abbastanza brutti però diciamo che ecco Talon Flame è abbastanza buono poi ci sarebbero anche Nyvern Greninja il T-Rex di cui non ricordo Tyrantrum però ecco la stessa generazione è un po' così direi Talon Flame però un po' eh la prossima domanda è anche questa molto molto interessante ce la fa Cortops Gaming che ci chiede porterai mai sul canale delle PokéPasta scritte o semplicemente mandate dai tuoi iscritti complimenti per i 3.000 iscritti grande bro grazie mille buon Cortops sì lo voglio fare è un progetto che mi hai già proposto caro Cortops però lo dico anche qua pubblicamente sì ho intenzione di aprire un chiamiamolo contest nel quale voi mi invierete le Creepypasta io le leggerò e poi magari potrebbe scapparci anche la sponsorizzazione se avete un canale o robe simili quindi ragazzi ve lo dico qua se volete mandarmi delle Creepypasta scritte da voi pagina Facebook cioè in teoria potreste mandarle anche su Youtube però vi consiglio io la pagina Facebook perché su Youtube i messaggi io li perdo stanno diventando troppi ormai ho tanti commenti non riesco più a gestirli tutti quindi se lo fate sulla pagina Facebook è meglio anche per voi Davide Muzzi ci chiede farete la Soulink a Rubino e Zaffiro saranno Power Creepy ovviamente saranno Power Raga sempre comunque l'idea c'è bisogna vedere come faremo la Soulink quando farla se farla su Rubino e Zaffiro perché io e Luke ci siamo confrontati e abbiamo detto Rubino e Zaffiro meh diciamo che non ci piacciono molto a entrambi quindi si ci saranno altre Soulink spero e nelle nostre intenzioni farle però ecco ci vorrà un po' di tempo però lo faremo tranquilli prossima domanda fatta da Mira che ci chiede farai qualche let's play con qualche youtuber piccolino? allora di let's play con youtuber piccoli nel senso più piccoli di me ne ho fatti praticamente tutti i miei let's play a parte quelli fatti con Binance sono fatti con youtuber più piccoli Frost ho fatto Pokémon Rosso Fuoco Distorto e a 350 53 iscritti Luke signori miei non è colpa mia se abbiamo organizzato la Soulink quando aveva 500 iscritti e l'abbiamo finita che ne aveva 3000 in teoria lui era uno youtuber piccolo quando abbiamo iniziato poi non lo so se è drogato è andato a 3500 iscritti quindi niente ciao Luke comunque si in futuro ho delle serie in programma con uno youtuber più piccolo di me è ancora tutto da vedere però insomma c'è qualcosa in programma vi avverto subito che non sono né Frost né Luke nel Bano è un altro ragazzo magari qualcuno lo saprà già però dobbiamo ancora metterci d'accordo è tutto però si let's play con youtuber più piccoli perché no una collaborazione non deve essere assolutamente fatta solo per guadagni in termini di iscritti ma anche perché per amicizia non lo so io di certo non faccio video con i miei amici per avere più iscritti ma perché siamo amici appunto quindi non vedo perché non potrei fare serie con youtuber più piccoli penultima domanda fatta da Koichi Kabuto Ravenclaw spero di avercela fatta che ci chiede Creepy da quanto tempo conosci Frost Rocket e Binet sei grande Creepy ti prego salutami ciao il tuo nome non lo ripeto neanche morto scusami ciao comunque che caro mio Kabuto facciamo che ti chiamo così allora Frost lo conosco dalla vigilia di Natale del 2014 del 2014 io non avevo un cazzo da fare la vigilia di Natale mi stavo scartavetrando le palle sono finito su youtube ho trovato il suo canale gli ho lasciato un commento sotto un video da lì è iniziata una storia incredibile ho tirato una volta al microfono dicevo da lì è iniziata una storia incredibile che è durata fino ai giorni d'oggi e niente quindi Frost lo conosco più o meno da un anno e mezzo mentre invece Luke lo conosco cioè conosco dalla sua esistenza cioè di dio io conosco l'esistenza da sarà stato tipo prima di Frost sicuramente una roba tipo estate 2014 però abbiamo cominciato a sentirci solo dopo perché prima io lo seguivo semplicemente come youtuber al tempo Luke aveva Luke quanti scritti avevi 20 forse no neanche ne avevi 5 una roba così e tra l'altro adesso Luke mi odierà perché lo dico lo conosco perché Luke mi mandò un messaggio di spam e si non sto scherzando mi ha mandato un messaggio di spam e se non ci fosse stato quel messaggio di spam io non avrei conosciuto Luke quindi viva lo spam invece il rapporto con Binet è sicuramente più recente risale all'estate scorsa quella del 2015 in pratica io lo seguivo già come youtuber poi si vede che lui ha visto il mio canale mi ha commentato qualche video abbiamo cominciato a sentirci per delle collaborazioni e poi in estate è uscito Pokemon Death Version e da lì abbiamo cominciato a fare collaborazioni su ogni cazzo di gioco che ci passava sotto Tokyo tra l'altro a proposito di Death Version notizione dell'ultimo momento sembra che sia in sviluppo la versione 3 di quel gioco quindi sicuramente se esce io e il vano la portiamo cioè su questa cosa qua potete scommetterci alla SNAI e sicuro che la prendete ultimissima domanda che ho lasciato per ultima non a caso perché è una domanda molto molto in bella soprattutto molto interessante è quella di The Magic Man YouTube io ho difficoltà a leggere i vostri nomi capitemi che ci chiede sei fiero di quello che fai hai mai pensato di lasciare YouTube allora sì sono veramente molto fiero di quello che faccio soprattutto perché quando ho iniziato diciamo che avevo un po' tutto contro la tecnologia le altre persone quindi per me essere arrivato a questo traguardo riuscire comunque a intrattenere tutte le persone che mi seguono 200 300 quelle che sono in un video è davvero una cosa stupenda e della quale vado molto fiero non solo io ma anche quelli che prima magari non credevano in questa cosa qua hanno cambiato idea e questa è una cosa che mi piace che mi ha fatto davvero tanto tanto piacere hai mai pensato di lasciare YouTube sì sì ci sono stati dei periodi quando avevo nove iscritti ho avuto per sei mesi nove iscritti io in cui ho detto vabbè che senso ha andare avanti tanto vale che smetto tanto non li guarda nessuno sti video però poi ho capito che la perseveranza paga come ha dimostrato recentemente il caso di Luke caricare sempre un video al giorno poi alla fine i frutti li da e quindi ho proseguito e alla fine verso gennaio sono arrivati i risultati ho cominciato a crescere di iscritti di visual ho cominciato a conoscere persone a fare collaborazioni quindi ecco un messaggio che vi do è sicuramente non arrendetevi se fate di YouTuber non arrendetevi se avete poche visual poche iscritti perché veramente se avete una buona qualità e ci mettete impegno 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 se facete se fate video ogni giorno con passione con qualità vedrete che prima o poi i risultati arrivano ero come voi un anno fa in questo momento io ero più o meno come voi ragazzi però vi assicuro che la perseveranza paga e quindi vi invito se siete YouTuber a fare come ho fatto io a non arrendervi e a continuare bene il fact time può terminare qua se non avete visto una risposta alle vostre domande perché ho risposto nel fact time precedente che trovate nella playlist fact time credo penso di farla oppure perché è una domanda da deficienti assolutamente e quindi niente io spero che questo fact time vi sia piaciuto mi raccomando scrivetemi qua sotto se ne volete uno ogni mese per soddisfare le vostre curiosità con creepy stories perché io ammetto che una persona così affascinante non è che può non essere interessante io vi invito a lasciare anche un mi piace a commentare a iscrivervi al canale se questo è il primo video che vedete come al solito non rispondete alla domanda del giorno perché non c'è una domanda del giorno incredibilmente passate dai social che trovate in descrizione vi ricordo per la storia delle creepypasta facebook 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 e noi ci becchiamo in un prossimo video sì ok piccola clip informativa nel selezionare le domande mi sono totalmente dimenticato di una buona lista di vostre domande che non avevo assolutamente visto non mi chiedete com'è possibile farò un altro fact time a breve per rispondere anche ad altre domande perché ce ne erano altre molto interessanti ciao ciao Grazie.